Regolarizzavano l'ingresso e la permanenza di numerosi cittadini stranieri falsificando contratti e posizioni lavorative. Si tratta di una vera e propria associazione per delinquere finalizzata a favorire l'immigrazione clandestina, quella scoperta dai carabinieri della compagnia Roma Eur, che ha portato all'arresto di sette persone tutte pregiudicate di età compresa tra i 35 e i 53 anni e alla denuncia di altre 27 persone. Contestualmente questa mattina all'esito di una delle perquisizioni nei confronti di uno degli arrestati, in particolare del Tittarelli Claudio, che è uno peraltro dei vertici dell'organizzazione, c'è stato anche un rinvenimento di un'arma clandestina, quindi con matricola del tutto cancellata e da brasa e con relativo munizionamento per il quale sono in corso degli approfondimenti in questo momento investigativi, il tutto rinvenuto nella disponibilità della figlia. L'operazione denominata Colfagen si prende avvio nel 2011. Durante delle intercettazioni telefoniche infatti le forze dell'ordine riescono a pizzicare le transazioni del sodalizio, volte a regolarizzare i cittadini extracomunitari come Colfe e Badanti, senza però averne diritto. Il secondo step era quello poi del reperimento di datori di lavoro tutti italiani, fittizi e quindi compiacenti, solidali all'organizzazione criminale, che si prestavano quindi a redigere online una domanda per regolarizzare questi stranieri, producendo di fatto documentazione falsa e contraffatta come CUD, buste paga, false cessioni di fabbricato, presupposto per ottenere poi presso i competenti uffici della prefettura, del nulla osta al lavoro prima e successivamente del rilascio del permesso di soggiorno per questi stranieri. Il giro d'affari del sodalizio criminale era di circa 30.000 euro al mese, una cifra che poteva però variare in funzione del numero di stranieri regolarizzati, poiché ognuno di questi doveva corrispondere all'organizzazione la somma complessiva di 3.000 euro. Lo straniero per la sola attivazione della pratica da parte del sodalizio corrispondeva una prima soluzione di pagamento di 1.000 euro, al momento del rilascio del nulla osta al lavoro, quindi a pratica inoltrata, al momento del rilascio del nulla osta ulteriori 1.000 euro, 1.000 euro finali poi al momento della definizione della pratica con conseguente rilascio del permesso di soggiorno.